La GIP di Bari, Anna Perrelli, ha confermato il carcere per Giovanni Monno e Angela De Vincenzo. I baresi di 30 e 31 anni arrestati la notte tra domenica e lunedì, dopo aver tentato di rapinare e poi accoltellato un tassista di 34 anni. I due si sono avvalsi della facoltà di non rispondere davanti alla GIP. L'accusa al loro carico è di tentata rapina e lesioni personali, reati e aggravati dalla minorata difesa della vittima, dell'uso dell'arma e della crudeltà. Secondo quanto ricostruito dai poliziotti delle volanti e testimoniato anche da un impressionante video registrato da una telecamera di sicurezza installata sul taxi, domenica sera i due, arrestati poche ore dopo a casa della donna, sono saliti a bordo del mezzo e dopo qualche minuto hanno aggredito il conducente nel tentativo di rapinarlo. L'uomo è stato colpito circa 20 volte con un coltello prima che Monno e De Vincenzo fuggissero a mani vuote. I due in passato sarebbero già stati fermati per rapine. Trasportato al Policlinico di Bari, invece, il tassista alla sua prima settimana di lavoro è stato curato con 122 punti di sutura e dimesso con una proniosi di 25 giorni dopo aver riportato feriti al volto, al braccio destro e al dorso. I colpi hanno sfiorato organi vitali, come riferito dai medici del pronto soccorso barese.